Oggi siamo venuti a Rodi Garganico, nell'oasi Agrumasia. Siamo con il vicepresidente del consorzio Agrumi del Gargano, nonché referente di Confagricoltura Foggia in questo territorio, Michele Ricucci. Gli Agrumi del Gargano sono attaccati da un insetto killer proveniente dall'Asia, paragonabile alla xylella delle olive. Che sta succedendo e soprattutto quali sono le conseguenze che state subendo? In pratica abbiamo questo attacco molto forte da questo parassita e non riusciamo a contrastarlo in maniera biologica, quindi abbiamo problemi perché questo parassita è molto feroce e si propaga molto bene. Sono circa due anni che abbiamo questa problematica nell'oasi Agrumaria e ancora oggi ci stiamo iniziando a muovere con dei trattamenti. In alcuni casi, in alcune aziende, i trattamenti chimici iniziano a fare il loro effetto. Un parassita che attacca aranci e limoni e che ovviamente ha conseguenze devastanti per la produzione, giusto? Sì, abbiamo piante che rischiano proprio di essere senza i frutti nei casi più gravi e addirittura a perdita delle foglie, nei casi ancora più gravi. Quindi è un vero e proprio problema per tutta l'Asia Agrumaria e per la nostra produzione. Come si chiama questo insetto e soprattutto che cosa sta provocando alla pianta? Questo è l'Aleurocantus spiniferus che in pratica la soffoca la pianta. Lo troviamo nella pagina inferiore della foglia e poi produce una melata che successivamente poi si scurisce e la pianta non riesce a fare fotosintesi e quindi pian piano va, diciamo, morendo la pianta. Nei casi più gravi può arrivare anche a seccarsi. E quindi non produce? Sì, sì, esattamente. Abbiamo problemi di produzione. Quest'anno come consorzio abbiamo avuto anche problemi nel trovare quindi agrumi puliti, arance pulite soprattutto ed è un grave problema per il nostro comparto. Una brutta annata? Bruttissima, sì. Sono circa due anni che già questo problema c'è. Ricucci, che danni economici state subendo? La mia azienda ha in pratica al momento 5 ettari di agrumi non produttivi tra arance e limone. La stessa situazione l'hanno anche altre aziende più piccole o più grandi del territorio. Quindi in pratica 5 ettari non produttivi sul Gargano è abbastanza importante come a livello anche di prodotto sul mercato che non arriva. Quindi è significativo come danno. Che cosa avete chiesto? Al di là dei trattamenti che state facendo? Avete chiesto una sorta di stato di calamità? Sì, abbiamo già chiesto una sorta di stato di calamità perché questo problema è grave, inizia ad essere veramente di entità importanti. Ci hanno detto che molto probabilmente a breve inizieremo a vendere il prodotto senza foglia perché appunto questo parassita c'è nella pagina inferiore della foglia e quindi vendendo solamente il prodotto senza la foglia possiamo comunque cercare di vendere senza arrecare altri danni in altre regioni, in altri posti dove questo parassita ancora non è presente.